Maristella, partecipi anche tu alla sottoscrizione per ripianare i residui attivi? Beh, basta con le tasse, ne abbiamo pagate fino a troppe e ne stiamo pagando anche troppe. Eh vabbè, ma l'eredità del Ducegno, qui qualcuno tocca questa carica? Eh, cominciassero a pagare i responsabili. I responsabili? Gli ex assessori? I presidenti delle società. I presidenti? I presidenti delle società. Ma all'assessori pure? Pure l'assessori, i consiglieri. Ma il delegato dello sport, l'altro dei cinque anni fa, chi ha fatto? Eh, che ne so, a me moglie. Eh, a chi lo dico, a chi lo devo chiedere? Allora ci metti tu, a sottoscrizione, la fai? Ma te non mi dico, e metti su. E per il bene della società. Cambio paese, di Vagli Ammarini.